Come condizione per un Mediterraneo senza armi, perché l'unico modo per ottenere un mondo senza guerre è non costruire più armi, è non commerciare più armi, è non continuare a potenziare le basi militari. Se ne devono andare e solo così non ci saranno guerre. Il nostro contributo oggi alla guerra in atto lo diamo a partire da Sigonella. Sigonella è il cuore di un percorso di morte che da anni si subisce, che da anni si subisce nei copoli del Mediterraneo. Sigonella deve essere smantellata. Questo è il messaggio che diamo oggi e che daremo e continueremo a dare in giro.